no Ronaldo il fenomeno o Cristiano Ronaldo Ronaldo il fenomeno se ti devo dire per quello che mi dicono il fenomeno io ho vissuto solo CR7 per me è il giocatore più forte della storia più di Messi per come piace a me il calcio ma il becco lì che l'ha visto giocare che dice Ronaldo che mi fa morire cioè tu che hai visto giocare il fenomeno dovresti dire il fenomeno Faina io ti dico Cristiano Ronaldo perché secondo me è stato forte con più continuità cioè Cristiano Ronaldo ha fatto 20 anni eh ho capito infatti mi ha chiesto di qualcosa la qualità del giocatore è oltre le infortuni ragazzi io guarda l'altro giorno ne parlavo forse qualcuno qui si è scordato Cristiano Ronaldo prime al Manchester United forse si è dimenticato hanno giocato con Ronaldo parlo di Zanetti parlo di Materazzi parlo di Maldini che ha già giocato contro contro tutti e due parlo di tanti giocatori che hanno giocato contro e dicevano Ronaldo è una roba imbarazzante Cristiano Ronaldo non riesce a marcare Ronaldo il fenomeno non lo riuscivano a marcare sono parole loro eh non sto parlando di 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 grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.